Cambiamo il mondo è lo slogan del convegno tenutosi questa mattina nella sala teatro dell'istituto De Nicola Sasso di Torre del Greco per sensibilizzare gli studenti al rispetto alla salvaguardia dell'ambiente partendo dalle piccole cose. Focus su temi come il risparmio energetico e le energie rinnovabili. Soddisfatta per la risposta degli alunni la dirigente Alessandra Tallarico che ha illustrato le finalità dell'iniziativa nell'ambito dell'open day promosso dalla scuola. Il mondo possiamo cambiarlo dando tutto il contributo partendo proprio dai più piccoli ecco perché il nostro scopo era quello di sensibilizzare i nostri alunni del nostro istituto infatti per l'occasione per questa giornata hanno realizzato anche di manufatti dei cartelloni e dei video che saranno presentati nel pomeriggio ai genitori che faranno visita al nostro istituto anche per dare la possibilità loro di scegliere bene l'istituto per i propri figli. E la scuola proseguirà su queste tematiche? Sì ma questo tutti i giorni anche i professori lo fanno di sensibilizzare gli alunni durante le attività quotidiane scolastiche dai piccoli gesti di chiudere la luce quando magari fuori c'è il sole quindi non c'è bisogno di illuminare consumando energia elettrica nelle aule quindi è un lavoro che si fa quotidianamente e poi per l'occasione di oggi dell'open day quindi hanno realizzato dei bei lavori che saranno mostrati al pubblico nel pomeriggio. Un percorso su queste tematiche che la scuola porta avanti con molteplici attività laboratoriali già da tempo come illustrato dal professore Giuseppe Romano collaboratore della dirigente scolastica. Presenti al dibattito il sindaco Giovanni Palomba, il vice Enrico Pensati, l'assessore a ramo Cinzia Mirabella nonché rappresentanti delle associazioni del territorio. Iniziative che vengono prese dall'amministrazione comunale vediamo come riportarle anche a carattere di istituzioni superiori tipo la regione o altre istituzioni perché è importante sostenere l'ecosostenibilità che è fondamentale e che parte all'interno della scuola quindi sono i ragazzi che sono prima prima loro a sensibilizzare noi adulti e quindi è una speranza positiva per quanto riguarda il sostenere quel pianeta nel modo migliore. Per poter cambiare il mondo è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte, le istituzioni sicuramente devono fare la loro parte, il mondo degli adulti perché la scuola tutti dobbiamo dare gli strumenti e gli indirizzi giusti affinché le nuove generazioni possano diciamo realmente mettere in pratica il volere di cambiare nel meglio la realtà dove viviamo. Anche i ragazzi, anche i nostri studenti però devono assumere dei comportamenti corretti e sono comportamenti elementari da non lasciare la carta a terra, diciamo da tutti da consumare il necessario dal punto di vista energetico, ognuno di noi deve fare la sua parte, chiaramente facendo ciò miglioriamo quello che è il nostro quotidiano. La tutela dell'ambiente è uno degli obiettivi dell'agenda 2030 e i miei complimenti vanno a questa scuola che oggi pone l'attenzione su un tema così importante, che è un tema molte volte lasciato al singolo, lasciato all'amministrazione, invece è giusto che ci sia una collaborazione, una sinergia tra scuola, amministrazione e anche famiglie che sono ovviamente lo zoccolo duro su cui bisogna puntare per poter educare le future generazioni. Su questo fronte qual è l'impegno dell'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale è sempre presente ovviamente, al di là di quello che è il rispetto di un capitolato d'appalto che vede appunto di mantenere un territorio sgombro da quelli che sono i rifiuti, è ovviamente anche quello che è il controllo. Io stamattina ho parlato proprio ai ragazzi che devono ovviamente impegnarsi anche loro nel loro piccolo, nell'azione quotidiana, anche del gettare la semplice carta della pizzetta o della bibita. L'amministrazione fornirà ovviamente quelli che sono i giusti servizi e quindi lo spazzamento qualora è previsto da calendario nella strada suddetta oppure ovviamente la fornitura di cestini. Stiamo proprio vedendo questo in questi giorni con la ditta incaricata di fornire un incremento di quelle che sono la dotazione di cestini proprio per sopperire a quello che è il problema della gestione di piccoli rifiuti lungo le strade cittadine. Qual è il suo messaggio agli studenti? Il messaggio è stato di carattere come sempre ambientalista, incentrato sulle problematiche del nostro territorio perché noi ci teniamo che i ragazzi conoscano le problematiche del territorio e conoscono che appunto così come a volte si può essere causa del problema si può essere anche soluzione dello stesso. La vostra associazione lavora molto con le scuole? Assolutamente, siamo impegnati con le scuole e con i ragazzi di tutte le fasce d'età partendo dall'asilo nido fino ad arrivare all'università perché è il nostro interesse rivolgerci soprattutto a loro perché è nelle future generazioni il destino del pianeta.